Dal 27 settembre al 5 ottobre torna a San Sisto di Pian di Meleto la Festa del Fungo, che è messo giunta quest'anno alla 47esima edizione. È una festa che da 47 anni che lo facciamo, noi siamo ai confini con la Romagna, le Marche, nella zona del Carpegna, così, quando siamo partiti è per valorizzare il territorio e i funghi. La nostra iniziativa è di parte che facciamo due mostre per permettere ai tanti cercatori di funghi di conoscerli, perché l'invito nostro è quello di raccogliere i funghi, solo quelli commestibili e altri lasciarli all'ambiente, perché sono molto utili per la vegetazione. Questo è un po' lo spirito, la partenza che abbiamo iniziato alla festa. Da non perdere per gli amanti della buona tavola le cene del bosco. La Festa del Fungo ha un punto fermo tradizionale, che è l'iniziativa che facciamo noi confesercenti insieme ai nostri ristoratori, che è il Festival della Gastronomia, che dura per tutta la durata dell'evento, quindi per 15 giorni. I ristoranti faranno dei menu a base di funghi, ma anche degli altri prodotti straordinari del Montefeltro a prezzi contenuti. Un ricco programma di eventi, spettacoli, convegni, degustazioni guidate, stand gastronomici e attrazioni per i più piccoli. Il 5, l'ultima domenica, c'è l'illugurazione della mostra con tutte le specie di funghi, che riusciamo a trovare nelle quattro regioni limitrofe, Marche, Romagna, Toscana e Umbria. Ha sempre gli stand gastronomici che funzionano per tutto il periodo, il pomeriggio e la sera, la musica, il divertimento.